La piazza progettata da Bernini è divisa in due spazi. Il primo trapezoidale delimitato da due ali piene che partono dalla facciata, il secondo ellittico delimitato da un colonnato di imponenti colonne doriche che simboleggia le braccia materne della chiesa. Lo spazio davanti alla basilica sembra invece dilatarsi dinamicamente, dando risalto e centralità alla cupola di Michelangelo. Grazie a tutti.